Non fa previsioni ma come è d'uso per l'ambiente scientifico che rappresenta monitora attraverso i dati l'evoluzione della pandemia. Incontriamo il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità al Pio XII di Misurina, dove sono stati presentati i primi dati dello studio sulla qualità dell'aria negli ambienti interni. Siamo ancora nella pandemia, la pandemia oggi caratterizzata però da due elementi importanti. Il primo elemento importante è abbiamo le vaccinazioni. E quindi la scommessa e la sfida e l'obiettivo che dobbiamo raggiungere nel tempo più rapido possibile è la vaccinazione della più larga fascia di popolazione possibile, tra quelli ovviamente rispetto ai quali il vaccino è autorizzato, nel più breve tempo possibile. Il vaccino è la nostra assicurazione rispetto alla capacità di controllare la circolazione del virus, spiega il professor Brusaferro, che conferma l'incremento dell'incidenza dei casi di Covid-19, in alcuni casi a doppia cifra in molte regioni italiane. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità esorta a proseguire il percorso virtuoso e intrapreso per l'accertamento dei nuovi casi di coronavirus, in sorti rapidamente legati alla variante Delta. È importante identificare precocemente i casi, tracciarli, avere idea dei tipi di virus che circolano. In questo senso sappiamo che la variante Delta si sta diffondendo anche nel nostro Paese, come sta avvenendo in tutti i Paesi europei, e le previsioni dei modelli dicono che nelle prossime settimane diventerà la variante dominante come circolazione. Sappiamo anche che questa variante è più efficace nella sua capacità di trasmettersi. Le regole comportamentali individuali restano fondamentali per la tutela della nostra salute, distanziamento, mascherina, igiene delle mani. Ci aspetta un presente e un futuro caratterizzato dall'emergenza di nuove varianti. Questa è una caratteristica del virus. Il virus continua a mutare e tra le continue mutazioni si tendono a selezionare quelle che hanno maggior capacità di sopravvivere nel contesto in cui si diffondono. Nuove varianti ci attendono. Il professor Brusaferro non lo nega e indica gli imperativi. Identificare, tracciare, conoscere e studiare per mantenere il numero dei casi più basso possibile.